Leo I nani non si impegnarono molto per seminarlo, e Leo si insospettì. Rimanevano sempre al limite della sua visuale, arrampicandosi sulle tegole dei tetti, rovesciando vasi alle finestre, lanciando grida di trionfo e lasciandosi alle spalle una scia di viti e chiodi dalla cintura degli attrezzi. Era come se volessero che Leo li seguisse. Lui gli correva dietro, imprecando ogni volta che gli calavano i pantaloni. Svolto a un angolo, e vide due antiche torri che si stagliavano verso il cielo, l'una di fianco all'altra, molto più alte di qualsiasi altro edificio. Si chiese se fossero torri di guardia medievali. Pendevano in due diverse direzioni, come le leve del cambio di una macchina da corsa. I cercopi si misero a scalare la torre di destra. Arrivati in cima, si arrampicarono sul lato opposto e scomparvero. Erano entrati? Leo riusciva a scorgere alcune finestrelle in cima. Erano protette da gratte di metallo, ma dubitava che bastassero a fermare i nani. Rimase lì a guardare per un minuto, ma i cercopi non ricomparvero. E questo significava soltanto una cosa. Doveva salire a cercarli. Fantastico, brontolò. Nessun amico volante a portata di mano. La nave era troppo lontana per chiedere aiuto. Avrebbe potuto improvvisare un marchigegno con la sfera di Archimede, ma senza la sua cintura. Perlustrò con lo sguardo i dintorni, sforzandosi di ragionare. Poco lontano vide aprirsi delle porte di vetro automatiche. Ne uscì una vecchietta carica di buste della spesa. Era un supermercato? Leo si tastò le tasche, e con grande stupore si accorse di avere ancora qualche euro, residuo della tappa romana. Quegli stupidi nani avevano rubato tutto meno che i soldi. Corse il più veloce possibile al negozio, pantaloni permettendo. Perlustrò le corsie di scaffali alla ricerca di cose utili. Non conosceva l'italiano per... Salve, dove tenete gli agenti chimici pericolosi, per favore? Ma... era meglio così. Non voleva finire in prigione in un paese straniero. Per fortuna non ebbe bisogno di leggere le etichette. Non ci mise molto a capire quale dentifricio contenesse il nitrato di potassio. Poi trovò il carbone, lo zucchero e il bicarbonato. Il negozio vendeva anche fiammiferi, insettici di spray e rotoli di alluminio. Praticamente tutto quello di cui lui aveva bisogno, inclusa una corda per il bucato da usare come cintura. Aggiunse anche qualche sacchetto di snack e di patatine, tanto per mascherare un poco gli acquisti più sospetti, e mollò tutto alla cassa. La cassiera con gli occhi sgranati gli fece delle domande che lui non comprese, ma alla fine riuscì comunque a pagare. Ci fece dare una busta e corse fuori. Si infilò dentro il portone più vicino, in un punto in cui poteva tenere d'occhio le torri, e si mise al lavoro, evocando il fuoco per seccare i materiali e cuocerli, velocizzando la procedura. Ogni tanto lanciava un'occhiata furtiva alla torre, ma non c'erano tracce dei nani. Leo poteva solo sperare che fossero ancora lì. Dalla nave non scese nessuno ad aiutarlo. Probabilmente ci stavano mettendo una vita per togliere tutti quegli elastici rosa dai capelli del satiro, si disse. E questo significava che poteva contare solo su se stesso, su una busta piena di snack e patatine e su una serie di armi molto improvvisate fatte di zucchero e dentifricio. E sulla sfera di Archimede! La sfera era importante. Sperò di non averla rovinata riempiendola di polveri chimiche. Corse alla torre, trovò l'entrata e si slanciò su per le scale, per essere subito fermato da una specie di custode che gli urlò qualcosa in italiano. Ma come, ci voleva il biglietto? Sul serio? Chiese Leo. Senti bello, là sopra siete infestati dai nani e io sono lo sterminatore! Gli mostrò la bomboletta dell'insetticida. Capito? Sterminatore! Aaaaaah! Mimò un nano che si liquefaceva terrorizzato, ma chissà perché, l'italiano non capì. Il tizio allungò la mano, nel gesto internazionale per dire fuori soldi, «Accidenti!» prontolò Leo. «Ho appena speso tutto quello che avevo in esplosivi artigianali!» Frugò nella busta della spesa. «Non è che accetteresti questa roba qui, in cambio?» Sollevò un sacchetto rosso e giallo di strane patatine al formaggio. Roba italiana mai vista prima. Incredibilmente, il custode si strinse nelle spalle e accettò l'offerta. Si scansò e lo fece passare. Leo continuò a salire, ma si appuntò mentalmente di fare scorta di patatine al formaggio. A quanto pareva, funzionavano meglio dei soldi, lì in Italia. I gradini non finivano mai. La torre stessa sembrava quasi una scusa per costruire scale. A un certo punto, Leo si fermò su un pianerottolo e si accasciò contro una stretta finestrella per riprendere fiato. Grondava sudore, aveva il cuore a mille. stupidi cercopi. Immaginava già la scena. Non appena arrivato in cima, quei due sarebbero balzati via senza dargli il tempo di usare quelle armi artigianali. Però, doveva provare. Riprese a salire. Finalmente, con le gambe molli come spaghetti scotti, arrivò la meta. La stanza era grande quanto uno stanzino delle scope, con le finestre sbarrate su tutti e quattro i muri. Ammucchiati negli angoli c'erano sacchi pieni di tesori, con la refurtiva luccicante che si riversava sul pavimento. Leo vide il pugnale di Piper, un vecchio libro rilegato in pelle, alcuni congegni meccanici dall'aria invitante e tanto oro da far venire il mal di pancia al cavallo di Hazel. Sulle prime pensò che i nani se ne fossero andati. Poi alzò lo sguardo. Akmone e Passalo erano appesi a testa in giù alle travi del soffitto, reggendosi sulle zampe da scimpanzee. Sfidando le leggi di gravità, stavano giocando a poker. Quando videro Leo, lanciarono le carte come coriandoli e prorupero in un applauso. «Te l'avevo detto che l'avrebbe fatto!» strillò Akmone, tutto contento. Passalo fece a spallucce, si sfilò un orologio d'oro e lo consegnò al fratello. «Hai vinto tu!» «Non pensavo che fosse così stupido!» Si lasciarono cadere a terra. Akmone indossava la cintura degli attrezzi. Era così vicina che Leo dovette resistere all'impulso di lanciarsi a riprenderla. Passalo si raddrizzò il cappello da cowboy e aprì con un calcio la gratta di una finestra. «Che ne dici? Dove lo facciamo arrampicare adesso? Sulla cupola di San Luca?» Leo avrebbe tanto voluto strozzarli, ma si costrinse a sorridere. «Oh, sembra divertente! Ma prima che ve ne andiate, avete dimenticato un bello gettino luccicante!» «Impossibile!» Akmone aggrottò la fronte. «Siamo stati molto scrupolosi!» «Sei sicuro?» Leo sollevò la busta della spesa. I nani si avvicinarono un poco. Come Leo aveva sperato, erano troppo curiosi per resistere alla tentazione. «Guardate!» Leo tirò fuori la prima arma, un grumo di sostanze chimiche avvolte nell'alluminio, e la incendiò con la mano. Sapeva benissimo di doversi voltare, ma i nani la stavano ancora fissando quando esplose. Ventifricio, zucchero e spray insetticida non erano nulla in confronto alla musica di Apollo, ma come granata stordente funzionarono lo stesso. I cercopi gemettero e si portarono le mani agli occhi. Cercarono di avvicinarsi alla finestra, ma Leo accese i fuochi d'artificio artigianali e li fece esplodere intorno ai loro piedi nudi per impedirgli di ritrovare l'equilibrio. Poi, per sicurezza, proteò la combinazione della sfera di Archimede, la quale liberò una nuvola di nebbia bianca e puzzolente che riempì la stanza. Leo era indifferente al fumo. Immune com'era al fuoco, aveva superato indenne falò, draghi e fucine divampanti milioni di volte. Mentre i nani menavano colpi a casaccio e respiravano a fatica, lui recuperò da Akmone la cintura, ne tirò fuori corde da bungee jumping e legò i due fratelli come salami. «I miei occhi!» tossì Akmone. «La mia cintura degli attrezzi!» «Mi vanno a fuoco i piedi!» gemette Passalo. «Non luccica!» «Non luccica per niente!» Dopo averli legati ben stretti, Leo trascinò i cercoppi in un angolo e cominciò a frugare tra i loro tesori. Recuperò il pugnale di Piper, qualcuno dei prototipi di granata e diverse cianfrusaglie che i nani avevano sgraffignato sul largo due. «Ti prego!» piagnucolò Akmone. «Non prenderci le nostre cosine luccicanti!» «Facciamo un patto!» propose Passalo. «Ti diamo il 10% di tutta l'area furtiva se ci lasci andare!» «Mi dispiace!» replicò Leo. «Adesso è tutto mio!» «Il 20%!» In quell'istante un tuono rombò sopra le loro teste. Lampeggiò un fulmine e le sbarre di una delle finestre si ridussero a monconi di ferro sfrigolante. Jason volò dentro come Peter Pan circondato da un alone di scintille elettriche impugnando la spada d'oro. Leo approvò con un fischio. «Cavoli! Questo sì che è un ingresso trionfale!» Il figlio di Giove aggrottò la fronte. Notò i cercoppi legati come capretti. «Ma che... tutto da solo!» dichiarò Leo con orgoglio. «Che vuoi farci? Sono fatto così!» «Come mi hai trovato?» «Ehm... il fumo!» spiegò Jason. «E ho sentito degli scoppi!» «Stavate facendo una sparatoria quassù?» «Qualcosa del genere!» Leo gli lanciò il pugnare di Piper, poi continuò a frugare nei sacchi di refurtiva luccicante. Ricordava quello che Hazel aveva detto a proposito di un tesoro che gli avrebbe aiutati nell'impresa, ma non sapeva cosa cercare. C'erano monete, pepite d'oro, graffette metalliche, carte di caramelle, gemelli per camice. Però tornava sempre a un paio di oggetti che sembravano non appartenere al contesto. Uno era un vecchio strumento di navigazione, simile all'astrolabio di una nave. Era molto danneggiato e gli mancavano di pezzi, ma Leo ne era affascinato. «Prendilo!» propose Passalo. «L'ha costruito Ulisse, pensa! Prendilo e lasciaci andare!» «Ulisse?» domandò Jason. «Vuoi dire... quell'Ulisse?» «Sì!» squitti Passalo. «L'ha costruito da vecchio a Itaca. È una delle sue ultime invenzioni e noi l'abbiamo rubata!» «Come funziona?» chiese Leo. «Non funziona!» rispose Acmone. «Forse gli manca un cristallo?» aggiunse, lanciando un'occhiata interrogativa al fratello. «Il mio più grande rimpianto! Avrei dovuto prendere quel cristallo!» continuava a borbottare nel sonno la notte in cui l'abbiamo rubato. Passalo si strinse nelle spalle. «Non ho idea di cosa volesse dire! Ma è tuo! Ora possiamo andare?» Leo non sapeva cosa lo attirasse tanto in quell'astrolabio. Era chiaramente rotto e aveva la netta sensazione che non fosse quello l'oggetto che Ecate voleva che trovassero. Ma se lo infilò comunque in una tasca magica della cintura. Poi rivolse l'attenzione all'altro strano oggetto della refurtiva, il libro rilegato in pelle. Il titolo era in foglia d'oro e scritto in una lingua che lui non conosceva, ma per il resto non sembrava avere niente di luccicante. Non immaginava che i cercopi fossero grandi lettori. «Questo cos'è?» lo agitò sotto il naso dei nani, che avevano ancora gli occhi lucidi per il fumo. «Niente!» rispose Acmone. «Solo un libro!» Aveva una bella copertina d'oro, perciò lo abbiamo sgraffignato. «A chi lo avete sgraffignato?» Acmone e Passalo si scambiarono uno sguardo nervoso. «Un dio minore!» replicò Passalo. «A Venezia!» «Davvero niente di che!» «Venezia!» Jason si accigliò. «Non è la nostra prossima tappa?» «Sì!» Leo esaminò il libro. Non era in grado di leggere il testo, ma c'erano un sacco di illustrazioni. Falci, piante varie, un disegno del sole, buoi che tiravano un carro. Non capiva cosa potesse esserci di tanto importante, ma se il libro era stato rubato a un dio a Venezia, il secondo posto che Ecate aveva detto loro di visitare, allora doveva essere quello che stavano cercando. «Dove possiamo trovare questo dio di preciso?» chiese. «No!» strillò Acmone. «Non potete riportarglielo!» «Se scopre che l'abbiamo rubato noi...» «Vi distruggerà!» intuì Jason. «È proprio quello che faremo noi se non ce lo direte!» «E siamo molto più vicini!» premette la punta della spada sulla gola irsuta di Acmone. «E va bene!» strepitò il nano. «La casa nera! Calle Frezzeria!» «È un indirizzo?» chiese Leo. I nani annuirono vigorosamente. «Vi prego, non ditegli che l'abbiamo rubato noi!» supplicò Passalo. «Lui non è carino per niente!» «Ma insomma, chi è?» replicò Jason. «Di quale dio si tratta?» «Non posso dirlo!» balbetto Passalo. «Gli conviene farlo, invece!» intimo Leo. «No!» ribattì il nano a franto. «Cioè, non posso dirlo veramente!» «Non riesco a pronunciarlo!» «È troppo difficile!» «Truto!» «Ci sono troppe sillabe!» aggiunse Acmone. E scoppiarono entrambi a piangere. Leo non sapeva se i cercopi stessero dicendo la verità, ma era difficile restare arrabbiati con due nani in lacrime, per quanto fossero irritanti e vestiti in modo assurdo. Jason abbassò la spada. «Che vuoi fare con questi due, Leo? Li spediamo nel tartaro?» «No, ti prego!» gemette Acmone. «Ci metteremmo settimane per tornare!» «Sempre che Gea ci lasci passare!» aggiunse Passalo, tirando su col naso. «E lei a controllare le porte della morte adesso!» «Sarà molto arrabbiata con noi!» Leo osservò i nani. Aveva combattuto contro un sacco di mostri in vita sua e non si era mai sentito in colpa nel disintegrarli. Ma stavolta era diverso. Doveva ammettere che, in un certo senso, ammirava quei due piccoli furfanti. Facevano scherzi fantastici e adoravano gli oggetti luccicanti. Tutte cose che Leo capiva bene. E poi Persia e Annabeth erano nel tartaro in quello stesso istante. Ancora vivi, si sperava, e avanzavano verso le porte della morte. L'idea di mandare quelle due scimmie ad affrontare lo stesso incubo, beh, non gli sembrava affatto giusto. Immaginò Gea che rideva della sua debolezza. Un semidio dal cuore troppo tenero per uccidere i mostri. Ripensò al sogno del campo mezzosangui in macerie, i corpi dei semidei greci e romani che ingombravano i prati. Ricordò Ottaviano che parlava con la voce della dea della terra. I romani sono a New York e avanzano verso est. Sono diretti al vostro campo e niente potrà rallentarli. Niente potrà rallentarli, riflette Leo. Chissà se... cosa? domandò Jason. Leo guardò i nani. Facciamo un patto. Gli occhi di Acmone si illuminarono. Trenta per cento? Leo scossi il capo. Vi lasceremo tutto il vostro tesoro, tranne le cose che ci appartengono, l'astrolabio e questo libro, che riporteremo a quel tizio di Venezia. Ma lui ci distruggerà! Gemette passalo. Non gli diremo dove l'abbiamo trovato. State tranquilli, promise Leo. E non vi uccideremo. Vi lasceremo liberi. Jason era sbalordito. Leo... cosa... Acmone squittì al colmo della felicità. Lo sapevo che eri un tipo sveglio come Ercole. Vi chiameremo Chiappescure 2. No, grazie, replicò Leo. Ma in cambio della vita che vi risparmiamo, dovete fare una cosa per noi. Vi manderò in un posto a derubare e a tormentare delle persone, a complicargli la vita in ogni modo possibile. Dovrete seguire le mie indicazioni alla perfezione. Giurate sull'ostige! Giuriamo, disse prontamente passalo. Derubare la gente è la nostra specialità! Adoro dare il tormento, concordò Acmone. Dove andremo? Leo fece un largo sorriso. Mai sentito parlare di... New York? Che? Grazie a tutti